Vediamo con chi siamo collegati oggi. Ciao Paolo, io sono Beatrice Marano e oggi mi trovo a Catanzaro, mi trovo alla stazione delle ferrovie della Calabria. Faremo un giro nei paesi, nei borghi dell'entroterra catanzarese, dell'entroterra calabrese. Faremo un giro particolare perché ci muoveremo appunto con il trenino delle ferrovie della Calabria. Il nostro percorso è diretto alla scoperta di luoghi sconosciuti in parte, luoghi poco frequentati turisticamente, luoghi che proprio nell'obiettivo di questo itinerario vogliono essere valorizzati. Quindi da qui, da Catanzaro, da Rione Milano, un quartiere storico di Catanzaro, storico perché è particolarmente interessante anche dal punto di vista architettonico, parte il nostro itinerario, quindi dal capoluogo di Regione. Rione Milano per omaggiare gli abitanti della Lombardia che mandarono degli aiuti a Catanzaro in seguito al terremoto. E quindi è un rione relativamente nuovo, interessante dal punto di vista architettonico per la presenza di belli edifici liberti. Questa è anche la zona di Catanzaro, alle nostre spalle, la zona del cosiddetto largo baracche. è costruito dopo i vari terremoti, in particolare dopo il terremoto del 1783, per ospitare la popolazione che aveva subito, appunto, le case, le cui case sono state distrutte dal terremoto. Allora, prima di partire, io volevo presentare e salutare... No, allora Beatrice, ci prendiamo la linea adesso, anche per ricordare che da questo momento in poi te la daremo definitivamente, quindi tu farai questo percorso veramente divertente, particolare. Il trenino da Catanzaro a Soveria avremo belle cose da vedere, e poi ci saranno altri collegamenti nel corso delle altre trasmissioni, sempre sul Reventino. Non vi do, ce l'ho già pronte, però non ve le do queste anteprime, queste sorprese. Vediamo invece Beatrice, che in questo momento sta prendendo il trenino, con chi è e con chi farà questo percorso da Catanzaro a Soveria. Paolo, io oggi mi trovo con l'amico Roberto Galati, che è in rappresentanza dell'Associazione Ferrovie della Calabria. È un'associazione che si occupa dello studio delle linee ferroviarie, con particolare riferimento alle linee calabresi, al recupero delle vecchie linee ferroviarie, e quindi con la loro opera di promozione cercano anche di rivalutare questi percorsi in treni che mi auguro piacciono anche ai telespettatori. Sono dei percorsi che generalmente gli abitanti dell'entroterra, della Presila, percorrono il gioco di parole abitualmente per recarsi dai loro paesi nel centro di Catanzaro, quindi per lavorare oppure per andare a fare le loro compere. Quindi sono abitualmente utilizzati questi trenini dagli abitanti del territorio. E la nostra idea oggi è quella invece di invitare i calabresi, e non solo, a visitare la Calabria appunto con questo mezzo. Passo la linea a Roberto, che ci racconterà un po' di più di questa sua esperienza in associazione. Ben ritrovata Beatrice, un saluto al mitico Paolo. Grazie intanto per la presentazione, che hai fatto benissimo e hai detto praticamente tutto, si può dire. Noi appunto ci occupiamo della valorizzazione delle linee ferroviarie in tutto il territorio calabrese, sia le linee di ferrovie della Calabria, dove ora ci troviamo, e sia le linee di rete ferroviaria italiana, dove circolano appunto i servizi di Trenitalia. Noi oggi siamo qui ed è un onore per noi accompagnarvi su questo itinerario, da Catanzaro a Soveria Mannelli. Sono 40 chilometri di linea e appunto percorreremo una delle tratte ferroviarie più belle probabilmente d'Europa anche, non solo d'Italia, che oltre alla valenza turistica e paesaggistica ha una grandissima importanza a livello di mobilità come trasporto pubblico locale, perché appunto la tratta Catanzaro-Soveria Mannelli non ha una viabilità stradale alternativa che possa avere gli stessi tempi di percorrenza a livello stradale della ferrovia. E poi soprattutto non dimentichiamo l'importanza nei periodi invernali più freddi della ferrovia in aree dove appunto abbiamo intemperie che possono provocare gravissimi disagi lungo la viabilità stradale. Quindi l'importanza di questa ferrovia è proprio questa, sia per il trasporto pubblico locale, sia per gli itinerari turistici e paesaggistici come quello che stiamo percorrendo oggi. Paolo, prima di arrivare a Soveria il treno farà alcune fermate. Al momento siamo alla stazione di Cavorà e ci fermeremo per un paio di minuti in attesa dell'altro treno che si fermerà al binario accanto. Il divertimento è anche questo, fermarsi nelle varie stazioni, guardare il paesaggio, un attimo di relax e di pausa per poi ripartire. Ovviamente abbiamo scelto il treno che si fermerà al binario accanto. il treno perché è imparagonabile a qualsiasi altro mezzo di trasporto, è troppo divertente. Guarda che meraviglia Paolo, guarda queste vallate, le montagne, queste gole profonde. Stiamo avvicinando a Gimigliano, guarda che meraviglia, che architetture, che fonti, opere di ingegneria sono state realizzate per arrivare, per raggiungere questi borghi, questi paesi. Eccola lì Gimigliano, divisa idealmente in due parti, la parte bassa del paese a circa 500 metri Gimigliano, nei racconti di uno scrittore, un libro che parla della sua terra, figlio di emigrati, emigrati, quindi un calabrese d'America potrei dire. In questo libro si parla della sua vita, delle sue radici e questo scrittore arriva a Gimigliano proprio per cercare le sue radici, nella sua famiglia, in ciò che è la tradizione della sua famiglia che ha lasciato nel suo essere. Ed eccoci, questa è la stazione di Gimigliano collegata poi da un percorso pedonale fino a su alla parte alta del paese. Noi ci fermeremo più avanti, ci fermeremo alla stazione di Porto. Gimigliano Gimigliano Siamo arrivati al Santuario della Madonna di Porto. Siamo partiti da Catanzaro alle 9.40, sono le 10.15 e siamo già arrivati in brevissimo tempo. Ripartiremo alle 11.35 per proseguire per decollatura e per Soveria Mannelli. Andiamo! Paolo, questo è il Santuario di Gimigliano, è un santuario importantissimo, uno dei centri della spiritualità più conosciuti e più frequentati, non solo del Catanzarese ma di tutta la Calabria. Questo santuario è stato inserito nel 2000 nei santuari mariani giubilari. Ogni anno in occasione di due importantissimi pellegrinaggi qui a Madonna di Porto vengono addirittura effettuati da Ferrovie della Calabria alcuni treni speciali, proprio da Catanzaro città e da Soveria Mannelli, per portare i pellegrini qui in stazione a Madonna di Porto che a due passi dal santuario. È in un caso che il 25 aprile vengono anche effettuati appunto dei treni in giorno festivo, quando normalmente le ferrovie della Calabria non sono attive nei giorni festivi. Paolo, siamo arrivati al romitorio. In questo luogo dimorò Pietro Gatto. Questo personaggio è un'eremita, è divenuto un'eremita a cui è legata la storia del santuario. Noi potremmo definirlo un brigantello. Era un personaggio, un uomo che prima della conversione viveva di piccoli furti, un ladro di mele potremmo definirlo, consentitemelo. Perché è legata alla vita di Pietro Gatto? Perché in questi luoghi, in queste terre, Pietro una notte sognò la Madonna. La Madonna gli chiese di costruire una cona, quindi una piccola grotta, un piccolo altare. E chiese a Pietro di collocare all'interno della cona un'immagine, l'immagine della Madonna, una copia dell'immagine della Madonna che attualmente è conservata nella chiesa a Gimigliano. Nessuno credette ovviamente a Pietro Gatto nel momento in cui chiese aiuto per realizzare questo piccolo altare. Ma la Madonna nel sogno aveva anche rivelato il luogo dove avrebbe potuto trovare della calce per realizzare questa piccola opera. E Pietro Gatto così fece, si recò e trovò la calce ancora calda. Non avendo collaborazione, da solo costruì la cona. Quindi il segno della presenza della Madonna in questo luogo, ma il segno ancora più tangibile della presenza del divino, operato attraverso la conversione di Pietro Gatto. Ora visiteremo questo luogo sacro, quindi questo è un luogo, prima di tutto un luogo di preghiera. e entreremo in questa piccola cappella che costituisce il primitivo nucleo del santuario. Santuario che poi verrà ampliato dopo la seconda guerra mondiale. Ecco Paolo, siamo all'interno della chiesa ed ecco l'immagine della Madonna. Questa immagine, come ti dicevo, riproduce in parte l'immagine di Gimigliano. L'immagine della Madonna, che è la Madonna di Costantinopoli, è un'immagine, secondo la tradizione, dipinta non da mano umana. Mi sto riferendo all'immagine conservata nella chiesa di Gimigliano. All'interno di questa chiesa poi possiamo vedere anche dei dipinti raffiguranti i evangelisti. E poi possiamo ammirare la grande chiesa, il grande santuario che adesso visiteremo. Come ti dicevo, questo santuario è stato ampliato. Ci sono diverse fasi costruttive, poi finito e ultimato negli anni 70 del Novecento. E per ragioni tecniche, quest'area non è stata inglobata nel santuario che visiteremo, proprio per la conformazione dei luoghi che non consentivano un ampliamento. Mi trovo all'ingresso della chiesa, che tra l'altro è stata elevata nel 2013 a Basilica Minore. E questo grande piazzale si popola di pellegrini in occasione proprio della festa, nel martedì di maggio, nel martedì di Pentecoste. È una festa molto partecipata e molto sentita. Pensa che qui accorrono da tutta la Calabria in pellegrinaggio a piedi. Arrivano da Catanzaro e quindi percorrono una parte di quello che noi abbiamo visto, del paesaggio, dei luoghi che abbiamo attraversato con il trenino. Alcuni arrivano addirittura di notte. Arrivano e si raccolgono in preghiera nella chiesa del paese, nella chiesa di Gimigliano, che dista circa 4 chilometri da qui, per arrivare poi alle prime luci dell'alba o in momenti differenti, proprio davanti a questo piazzale. Tutti riuniti in preghiera. È un momento di festa. Nel momento in cui arriva la sacra immagine che viene portata dalla chiesa di Gimigliano qui, c'è una grande festa, i fuochi d'artificio, quindi una parte del momento civile, il sacro che è il profano, ma soprattutto il sacro. Nel significato profondo della veglia di preghiera nella notte precedente, nel grande momento di raccoglimento qui, in questo luogo. E poi un incontro, un incontro significativo. E a confrunta, consentimi, questo incontro fra la Madonna e San Giuseppe. Incontro che poi si ripeterà al ritorno a Gimigliano. E questo è il momento più significativo. Tra l'altro la tradizione della veglia. E quindi momenti che legano la nostra chiesa al rito greco, a questa chiesa d'Oriente che ha segnato profondamente il nostro modo di essere. Questo è il fiume Corace. Ci troviamo in un'area di rilevante interesse naturalistico. Questo fiume è stato molto importante in passato, in particolar modo per lo sviluppo economico del territorio. Qui ci sono le trote. Il fiume Corace, che secondo alcuni, il nome dice fiume dei corvi, secondo alcuni. Secondo altri, il nome farebbe riferimento ai granchi. E non sappiamo quale delle due tesi accogliere. Attraversiamo la Porta Santa per entrare all'interno del santuario. La grande immagine riproduce la Madonna. È un mosaico veneziano, misura circa 6 metri per 4. La Madonna tiene in braccio il bambino e tiene in braccio il bambino sul ginocchio destro. e il bambino nell'atto di allattare. E parlando di Gimigliano, volevo ricordare il legame che esiste fra Gimigliano e la Madonna di Costantinopoli. Perché il culto della Madonna di Costantinopoli a Gimigliano? Si diffuse negli anni 20, intorno al 1626, qui a Gimigliano, periodo di terremoti, periodo di pestilenze. Questo culto era già diffuso a Napoli e la gente di Gimigliano venne a conoscenza della protezione accordata dalla Vergine alle popolazioni. E chiese allora ai religiosi del tempo di avere un'immagine della Madonna. E fu così che fu commissionata la realizzazione di un dipinto. La struttura della Chiesa ingloba la struttura più antica che possiamo guardare da questo finestrone. La basilica, come potete notare, è riccamente decorata da marmi preziosi di diversa provenienza. La Madonna di Porto è stata... la storia del dipinto è legata alla storia di un pittore, un tale di Gagliano, detto Marca Angione. Viene commissionata l'opera a questo pittore e il pittore abbozza delle linee. Si addormenta, stanco, col proposito di ultimare con calma il dipinto. Ma al mattino ridestatosi, il dipinto viene trovato completamente finito. Per questo motivo si dice che è il dipinto che ricordo che è conservato in paese su a Gimigliano è detto dipinto da mano non umana. quindi probabilmente da mano divina. Vi dicevo si svolge una processione molto partecipata. Le origini possono essere ricondotte ai primi dell'Ottocento durante il periodo francese. si racconta che il comandante delle truppe francesi portò via proprio da Gimigliano il quadro della Madonna e avvolse la tela e nascose la tela in un armadio. Di notte però fu svegliato. Fu svegliato da un bagliore improvviso e lì ridestato si capì che c'era qualcosa di forte un segno divino decise quindi di restituire di riportare indietro il quadro che fu poi accompagnato da numerose genti e quindi secondo alcuni è questa proprio l'origine del pellegrinaggio alle mie spalle vedete un'area picnic un'area attrezzata qui quindi è possibile non solo partecipare alle funzioni religiose ma trascorrere in serenità e in famiglia una domenica o un'altra giornata Gimigliano Gimigliano significa terra dalle coltivazioni di alberi terra in cui fioriscono e fruttificano alberi da frutto secondo alcuni secondo altri il nome può essere correlato a gemelli e potrebbe anche essere un riferimento ma potrebbe un'ipotesi al fatto che appunto Gimigliano è divisa in due parti la parte bassa e la parte alta prima di lasciare questa stazione e di dirigerci verso decollatura volevo ricordare che la Madonna la Vergine che abbiamo visto è una Madonna Odigitria ossia una Madonna che indica il cammino guida della via e quindi mi auguro che possa guidare il nostro cammino adesso aspettiamo il treno e la prossima fermata è San Bernardo decollatura questa stazione ha un'altra particolarità perché è stata creata appositamente per servire il santuario e questa è una particolarità delle ferrovie della Calabria vi racconto adesso del viaggio di un personaggio di Gimigliano un personaggio che visse nel nel Cinquecento un personaggio un po' strano forse un mago forse un alchimista e ai tempi in cui scienza e magia si fondevano i confini fra la scienza e l'occulto ai tempi non erano demarcati in maniera netta e ve lo racconto qui sul treno perché? perché questo personaggio pare non avesse bisogno di mezzi per spostarsi ai tempi in cui spostarsi da un luogo all'altro o fra queste montagne era era difficile pare che attraverso i suoi poteri riuscisse in un giorno ad arrivare al nord o nel giro di poche ore a spostarsi da un paese all'altro questo tutto grazie ai suoi poteri magici ma sono solo racconti siamo a serra stretta serra stretta carlopoli la stazione che serve queste due paesi serra stretta significa stretta fra due monti serra significa montagna questo è un luogo molto interessante perché proprio in questo punto in prossimità dell'astrazione i due fiumi che attraversano questi luoghi che sono il corace e l'amato corrono paralleli e si avvicinano a circa un chilometro per poi proseguire il loro cammino distanziandosi a circa tre chilometri serra stretta è un borgo famoso anche per la lavorazione per l'artigianato in passato e anche oggi ma in particolare modo in passato si lavoravano e si producevano artigianalmente le sedie i seggiari la tradizione le sedie impagliate famose erano le sedie dette 13 bis perché realizzate in più parti in 13 parti ed è importante ricordare l'artigianato in questi luoghi perché attraverso queste attività potevano traevano da queste attività sostentamento numerose famiglie è importantissimo era il ruolo della donna nella lavorazione delle sedie alla donna veniva affidata la lavorazione della seduta della parte impagliata appunto che veniva realizzata con fra virgolette dei giunchi raccolti nelle zone fra virgolette paludose nelle zone nelle zone umide quindi era un'attività che potremmo definire oggi usando un termine moderno un'impresa familiare la donna si poteva dedicare e alla cura della casa della famiglia e contribuire proprio con il suo lavoro alla lavorazione artigiana delle sedie stiamo percorrendo questa valle vediamo delle coltivazioni degli orti e le patate siamo nell'area della coltivazione della patata delle patate di decollatura che sono appunto tutelate con il marchio IGP e diciamo tutta l'area silana è importantissima per la produzione delle patate che vengono commercializzate non solo in Calabria ma anche al di fuori dei confini della nostra regione perché sono famose e si differenziano dalle altre coltivazioni per la quantità di amido presente appunto nel tubero che conferisce delle caratteristiche diverse infatti tengono molto bene la frittura ed è per questo motivo che le patate della sila ottime appunto pericolose da consumare fritte presentano appunto dopo preparate quella caratteristica di essere croccanti fuori e morbide e morbide dentro erano importantissime nell'alimentazione delle famiglie contadine per il sostentamento delle famiglie contadine così come era importantissima la coltivazione del grano il Germanu detto in Calabrese perdonate il termine se la pronuncia non è esatta e poi la coltivazione del grano da cui si traeva la farina bianca ma la farina bianca era destinata alle mense dei personaggi importanti e non alle mense dei contadini quindi era coltivata era una coltivazione una coltivazione di nicchia splendida questa vallata fra le montagne siamo nell'area del Reventino in generale Tiriolo Reventino e Mancuso area di grande importanza naturalistica che lo Allora, stazione di decollatura, il nome legato alla decollazione di alcune persone o secondo alcuni legato ai colli quest'area, vi dicevo, di grande importanza naturalistica, di grandi coltivazioni il cui sviluppo è stato determinato dalla presenza dei fiumi quindi dall'approvvigionamento idrico tra l'altro in principio si sviluppano di più le zone collinari perché le aree attraversate dei fiumi erano delle aree spesso interessate dalla piena dei fiumi perché il corso non era reggimentato e quindi solo quando interviene l'uomo e quando comunque nei secoli cambia la portata fluviale queste aree vengono adibite a coltivazioni Stiamo scendendo a San Bernardo, visiteremo la chiesa più importante del borgo e vi racconterò ancora della storia di questi luoghi Mi trovo dinanzi alla chiesa di San Bernardo in compagnia dell'amico Giovanni Petrolo che mi ha accolto qui a decollatura Giovanni che voglio ringraziare appunto per l'accoglienza La chiesa è una chiesa settecentesca è una chiesa realizzata con una tecnica particolare che prevede l'uso della pietra locale Di rilievo è il portale di pietra verde ricordo la presenza in tutta l'area del Reventino di molti elementi architettonici realizzati con la pietra verde di Gimigliano c'erano diverse cave di pietra e di marmo rosa mentre il portale alla mia sinistra è un portale in tufo La chiesa è a tre navate ed è appunto dedicata a San Bernardo All'interno di questa chiesa possiamo ammirare i dipinti di Zimatore un importante pittore dei primi del Novecento nato a Pizzo Calabro Adesso ci spostiamo presso un punto panoramico e vi farò vedere la cima del Reventino per poi dirigerci a Soveria Mannelli Alle mie spalle è il Monte Reventino circa 1400 metri secondo la leggenda il monte popolato dalle fate e qui c'è un luogo detta Fossa da Chiesa dove appunto era una chiesa costruita dalle fate le fate abitavano questi luoghi abitavano nascoste nelle pietre e lavoravano con telai di faggio un faggio fatto con le foglie d'oro Allora questa fotografia qua è la stazione di San Bernardo negli anni 30 del Novecento c'è la locomotiva 170 si vede evidente la stazione i personaggi, le persone pronte ad andare in terreno verso Catanzaro direzione Catanzaro come vedete ci sono le carrozze a terrazzini a terrazzini storiche proprio di Ferrovie Calabro Lucane ancora oggi esistenti tra l'altro e questa fotografia qua invece indica la stazione principale di decollatura quella che sta nella frazione di Cerisi eccola qua questo è un altro panorama sempre della stazione di Cerisi un bellissimo panorama sempre degli anni 30 le stazioni sono finite abbiamo altre foto storiche di decollatura questa è la foto del monumento dei caduti del 1924 inaugurato proprio nel 1924 a ricordare le 42 vittime della prima guerra mondiale di decollatura invece questa fotografia qua è stata scattata negli anni 30 durante il fascismo quindi davanti allo scolastico decollatura opera costruita sempre durante il fascismo in cui vi erano le scuole elementari e medie e questa è una riunione che è stata fatta lì davanti abbiamo anche un'altra foto questa è una protezione della Madonna Assunta 15 agosto sempre degli anni questa è degli anni 20 questa fotografia qua un'ultima ultimissima foto decollatura aveva anche un cinema il cinema moderno e questa foto indica appunto che è il cinema vicino proprio ad una benzina ancora oggi esistente il cinema oggi non esiste più ha funzionato fino agli anni 80 del novecento allora questo è il mercato mensile che si teneva a decollatura decollatura è anche famoso per la fiera del 20 settembre ogni anno il 20 settembre facciamo la cosiddetta fiera della cucuzza ed è anche l'anniversario della breccia di portapia che in qualche modo decollatura ha sempre ricordato con questo grande mercato lo si può infatti vedere che era tra l'altro molto affollato volevo altrimenti ringraziare per le foto la famiglia Germinara che me le ha gentilmente concesse ricordo che decollatura ha dato i natali a personaggi importantissimi luigi costanzo felice costanzo poeta e michele pane poeti quindi letterati politici e uomini illustri adesso ripartiamo riprendiamo il trenino la soleria Mannelli visiteremo il centro i monumenti che caratterizzano questa cittadina un'antica fabbrica tessile e poi ammireremo anche il paesaggio questo come vedi è un piccolo carrellino minerario che veniva utilizzato quando sono state costruite le linee delle calabro lucane nello specifico si utilizzavano per scavare le gallerie che oggi appunto esistono lungo la tratta ferroviaria mentre questi qui sono i classici carrellini dei cantonieri utilizzati per la manutenzione delle strade ferrate oggi sono ovviamente in disuso però sono dei pezzi ormai d'antiquariato siamo a piazza dei Mille il monumento ricorda un episodio storico importantissimo il 30 agosto del 1860 qui Garibaldi e le truppe garibaldine guidate dal generale Francesco Stocco ebbero un'importante vittoria sulle truppe borboniche guidate da Ghio e quindi come attesta l'iscrizione sul monumento Marmoreo è un momento, una grande pagina della storia d'Italia della Calabria è stata scritta e Garibaldi dice dite al mondo che alla testa dei miei bravi calabresi ho disarmato 12.000 soldati borbonici allora ci troviamo a Palazzo Cimino sede municipale del comune di Soveria Mannelli è un palazzo antico riutilizzato, riadattato perché qui c'era il carcere, c'erano le carceri mandamentali noi visiteremo questo luogo perché è un luogo di notevole importanza artistica e consentitemelo fra virgolette una sorta di pinacoteca un luogo dove sono ospitate, che accoglie delle opere d'arte importantissime fra cui appunto un'opera di Mimmo Rotella uno dei più famosi artisti calabresi ci accoglie Mario Caligiuri che ci presenta quest'opera è Aldo Turchiaro, un artista calabrese importante che ha insegnato all'Accademia delle Belle Arti di Roma questo è un quadro che ripropone i suoi temi che sono quelli dell'animalessimo quindi che gli animali sono esseri viventi che sono protagonisti del mondo dell'arte e questo è il pensiero che Aldo Turchiaro ha sottolineato durante il corso della sua vita e poi abbiamo tante altre opere d'arte in questo palazzo comunale che è una pinacoteca a cielo aperto Allora, l'opera è di Mimmo Rotella uno dei più famosi artisti calabresi al mondo è dedicata alle vittime d'America è una delle... è la più grande il più grande decollage realizzato da Mimmo Rotella è l'autore delle opere delle tele fra virgolette, dei manifesti strappati dei manifesti lacerati il calabrese che appunto ha realizzato queste opere prendendo i manifesti e quindi muovendo dalla quotidianità e dalla contemporaneità siamo all'interno della sala consigliare è una sala interessantissima dal punto di vista artistico questa è l'opera di Dolores Pudot e dal titolo Libertà, vo cercando queste figure, l'attenzione delle figure emerge salta all'occhio dell'osservatore è una zona priva quasi di prospettiva ma il nostro occhio è attratto dal movimento dalla linea, dal modo di trattare il colore operato dalla pittrice dottor Caligiuri sicuramente saprà aggiungere tanto su quest'opera alla fine degli anni 90 abbiamo inteso fare affrescare come nel Rinascimento il luogo simbolo del comune e del palazzo municipale che è l'aula consigliare sono cento figure una diversa dall'altra realizzate dalla scenografa della scala Dolores Pudot una delle più importanti pittrici italiane viventi e che ha cercato di esprimere il concetto della libertà infatti sono delle figure che cercano di divincolarsi dalle catene per liberarsi dal bisogno perché l'unica vera libertà è quella della libertà dal bisogno e quest'aula si chiama sala della libertà abbiamo poi isolato un frammento di questa sala e l'abbiamo poi riprodotta in una pubblicazione che abbiamo poi inviato a tutte le famiglie di soveria in modo tale che ogni famiglia possa avere un pezzo di quest'opera d'arte Potremmo aggiungere allora in questo caso che questa sala può essere in senso lato un omaggio all'articolo 3 della nostra Costituzione alla secondo comma all'eguaglianza sostanziale intesa come libertà dal bisogno Anche questo ma anche a tanti altri concetti all'articolo 21 che è il diritto di espressione agli articoli che salvaguardano la cultura, il paesaggio, la bellezza e credo che un comune debba promuovere all'interno della propria cittadinanza questi concetti soprattutto dopo che in tutta Italia dopo la seconda guerra mondiale abbiamo avuto il trionfo dell'orrido Noi siamo partiti da Catanzaro siamo partiti con il trenino delle ferrovie della Calabria ci siamo fermati al santuario della Madonna di Porto a Gimigliano ci siamo fermati a decollatura nella stazione di San Bernardo e chiuderemo il nostro percorso turistico con Soveria Mannelli è un percorso a nostro giudizio diretto a valorizzare l'entroterra calabrese e in particolare questi luoghi di montagna che a mio modestissimo giudizio hanno un fascino indescrivibile mi piacerebbe conoscere la sua opinione Sono d'accordo, senza dubbio viviamo in territori affascinanti io direi che avete centrato una delle poche risorse che abbiamo nell'entroterra montano del Reventino così come in altre aree interne della Calabria assolutamente il paesaggio la natura e poi associati anche alle tradizioni locali alle culture locali sono delle risorse da valorizzare assolutamente quindi il percorso che avete fatto è un percorso straordinario avete preso poi la ferrovia delle Calabro Lucani che è veramente, oserei dire, pittoresca si immerge in un paesaggio straordinario di verde di ricogliosità della natura straordinario per cui sì, sono d'accordo con quello che avete fatto chiudere la soveria per noi è un fatto che ci riempie d'orgoglio questa piccola comunità che si è distinta in tutti gli anni per essere stato un comune all'avanguardia tra i comuni calabresi ha chiuso, secondo me, egregiamente il vostro tour ci troviamo all'anificio Leo una delle fabbriche più antiche della Calabria nasce a fine Ottocento in origine si trovava nel territorio di Carlopoli Castagna poi spostata qui a Soveria Mannelli è una fabbrica museo una fabbrica che conserva ancora le vecchie macchine utilizzate per la lavorazione dei tessuti una fabbrica che ha saputo innovarsi e rinnovarsi e quindi costituisce un perfetto connubio fra tradizione ed innovazione con le antiche macchine vengono realizzati dei filati dei tessuti a cui viene applicata invece una tecnologia modernissima quindi la fabbrica museo ti presento Emilio Leo l'architetto Emilio Leo che rappresenta in questo momento la quarta generazione della famiglia Leo il suo papà se non erro è novantenne il papà diciamo è colui che in realtà ha mantenuto in vita l'impianto nella sua fase di transizione diciamo dalla fine degli anni Ottanta alla fine degli anni e Novanta quando poi in realtà sono arrivato io e ho cominciato questo progetto di ricucitura tra patrimonio industriale e nuova idea di impresa c'è una frase molto bella che ho sentito pronunciare in occasione delle mie visite in questo luogo che io riassumo così perché per fare non bisogna necessariamente partire e andare è una frase molto bella che invita i calabresi noi giovani a riscoprire le nostre tradizioni e a portarle avanti sicuramente con molti impegni e con tanta fatica ma secondo me questo è un po' il segreto di questo momento storico cioè la Calabria sempre è stata dipinta come una terra in cui non è possibile fare nulla da cui bisogna scappare perché altrove è tutto possibile abbiamo tanti problemi ma in realtà abbiamo tante risorse e le dobbiamo cercare dentro di noi accanto a noi vicino a noi questa storia rappresenta nel suo piccolo questa possibilità da Ferraglia dell'Ottocento a Patrimonio Industriale al luogo in cui tradizioni e innovazioni si incontrano e da Soveria Mannelli che potrebbe sembrare periferia della periferia il Lanificio Leo oggi è un brand di vocazione internazionale sempre molto piccolo sostenibile compatibile con la nostra dimensione culturale imprenditoriale ma che collega un posto del meridione a un contesto molto più largo che quello del mondo allora adesso l'architetto Leo ci illustrerà ci spiegherà la funzione di questa di questa macchina beh diciamo che il viaggio della lana o comunque delle fibre è abbastanza lungo a un certo punto dal fiocco si arriva al filo e con il filo bisogna organizzare un ordito che è la base verticale per la produzione di un tessuto questo è un orditoio a sezione in cui la complessità di migliaia di fili viene organizzata e ordinata perché senza questo tipo di apporto e di precisione nessun tessuto potrebbe essere fatto e naturalmente dopo aver organizzato i fili possiamo decidere di fare tessitura a navetta meccanica con macchine di patrimonio che abbiamo nella parte del museo d'impresa oppure utilizzare anche macchine di ultima generazione come questa che è un dornier a pinze positive dove essenzialmente il principio è quello del telaio di legno di 2000 anni fa per cui se non si sa parlare a un telaio di legno non si sa parlare alla nuova tecnologia e questa è una delle sfide del prossimo futuro che ci deve insegnare che soprattutto in calabria il problema non è solo di innovazione tecnologica ma soprattutto di innovazione della testa siamo a piazza Bonini questo è il monumento dal titolo memoria del futuro il monumento è di Plessi noto come la casa cadente e volevo salutare Roberto ringraziarlo per la preziosissima collaborazione nell'organizzazione della tour con le ferrovie della Calabria un amico che pur non essendo guida oggi mi ha supportato soprattutto nella parte tecnica relative alle ferrovie io saluto i telespettatori vi invito a ripetere il percorso perché è fattibile tutti i giorni della settimana magari facendovi accompagnare da una guida io sono Beatrice Marano il mio telefono è 389 58 34 309 e il mio sito è www.guidaturisticaincalabria.it grazie grazie